Ok Resta esperto Ma tanto sono le vite infinite Shizukina Tranquillo Guarda guarda Nuovi entusiasmanti personaggi Ah tu ti posso scegliere L'arma è mio Mission 1 Start Andiamo A posto Heavy machine Troppo alto il volume ragazzi Mi sembra troppo alto Anche se a 3 Fermo ferma Shizukina Non sto facendo nulla Tutto da solo è pazzo? Tenta No Presto presto Forse almeno uno se non riesce a liberarlo io Tenta Butta sotto Che bombine da saltare Ok Ok Prendilo tu Esiste nuove armi Nuovo tutto Ma è ottimo È bellissima questa Ma sì Tra un gioco e l'altro Ci sono delle aggiunte incredibili Oddio Oddio sto sparando un cammello Scusa No 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 Non uccidi Prendilo Prendilo Prendi il cammello Cosa? Hai la torretta Yeah E niente Tutte addosso a me arrivano le armi Tenta che ti puoi uccidere Tenta che ti puoi uccidere Quello rosso Quello rosso Vogliono tutti con quello rosso Ah ok Guarda il primo boss Cioè il boss del primo gioco È tornato Ma non ci puoi uccidere Bimberto Tenta Tenta Cioèw Cum è bestia E tu Carino E ma adesso Vedrai cosa cazzo succede Qui Accid seemed sbloccato recluta ma che c'è ancora il cammello dal livello per i sì anche se molte lo tolgono perché sono stronzi allora aspetta 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 non distruggere il danger no shizukina è stata presa tutto bene shizukina ok qualche cosa che uccide i pipistradi no 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 niente uccide i pipistradi guarda cosa c'è guarda 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 alle e viana questa è abbassata non ti prendono mai però se ti prendo diventi quello se ti prende due volte ti uccide però ti puoi curare dalla mummificazione con quella Le macchinine, le macchinine Spari delle macchinine radiocomandate che vanno da sole Ma mi hanno preso? Non me la sono, non me so accorto Ma era morto il joystick Guarda, sono una mummia con gli occhiali da sole Ah, dove è? Oh no Ah, attenta No Ah, non ho preso Jizukina Presto Ti fa di scegliere il personaggio Eh, ci devi saltare sopra i cani Se questi fa così Eh, no, non ci sono riuscito perché sono mummia No Eh, prima vita qui, che vergogna Sì Brucciali Ah no, hai cercato di bruciare la gallina, ti ho visto Sì Sì No, non è vero, non era una S Sì 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 Tira la testa ogni tanto quando lanci le bombe da mummia Non ho mai capito che fa più danno se è solo per ridere Ok, però adesso i 401 serv 1949 fanno capire sta roba che ci ci he preso ormai ammno Effi, attenta, quelli lì one shot, non è quelle mosche, le scarabai volanti. Guarda, guarda, c'è l'esploratore qui, guarda, 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 attenta, ah! Tororo! Ah! E a volte prendegli dai calci, tira fuori il pugno così. No! Ma era morto quel calcio! Ma come ha fatto a colpirmi? Niente! Ma già la seconda volta che mi colpiscono e non è vero, basta! Ah! E niente. Beh, ci sarà una cura lì. No! Ah! Mamma mia! Devi saltare sulla mummia. Vado, vado. Attenta qui, il masso, il masso! Attenta allo schifo che scende lì! Ah! Ho schifato. GG, ne arriva un'altra, attenta! Vado! Vado! Eh no, ero troppo stretto! Ah! Ti prendo l'h, se no mi uccidono! E non muore più quella mummia maledetta! Basta! Ho delle problematiche con i salti! Ok. Grazie! Speravo morisse subito! Dica, dica! Però anche qui c'era... Eh, qua è un casino ora per te. E anche per me adesso. Resta, presta le monetine! Eh, eh, sono fatta! Ok. Egnori all'altezza della testa. Lasciami, lasciami nella pozione, la pozione! Haio! Shotgun! Spara, qui all'occhietto, qui all'occhietto! Lì. Ah, ma ti dà... Ah! Spara, spara, spara! Spara, spara! Ah! Ah, ma c'è il boss, ed è un casino! Allora, è pieno di pozioni, ma... Sì, ma non ci servono. Allora, ora te ne danno una anche a te. Non te ne danno? Ah no, era uno solo! Prendi, prendi le H, presta, 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 presta! Ne prendi tutte? Prendi tutte, prendi tutte. Gatto! Ok, ora attenta a prendere il percorso giusto! E' a sparare giù! Ah! Eh, questo... Questo è difficile come boss. Mi è morto il joystick e quello si è lanciato a terra da solo, drogato! Ma dai, che ha fatto proprio il tuffo! Come ha fatto a triggerarsi il salto e andare avanti? Sarà scollegato! Ecco perché non riuscivo a schivare col carro! Vabbè, manco è trogliata sto boss! Ah, se la faccio, se la faccio! Ma non ti dà il tempo! Ah! Vedi, è per questo che i sequel di Metaslugam me triggerano sul fattore di difficoltà, perché ci sono alcune situazioni dove non vai da nessuna parte, è inutile. E' cano di... Quanto ci vorrebbe volo qua? Niente! Potrebbe anche morire per ora, eh! Ma ho fatto più veloce che potevoli! Che puoi fa più di così? Mamma mia che palle! Sì, perché c'hanno le aggiunte carine, però sono scorretti. Missione completa! Il treno, il treno è bellissimo! Grazie! Il fire! È partito! Partito! Ma che ti muove? Sì! Sì Aspetta, giù 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 Nooooo Maledetto il delay di Discord Nooooo Il tuo gioco pretende dei riflessi che uno non può avere se non sa già che scendono, è inutile Oh la bomba così che cattiva, come l'ha tirata No Guarda che cazzo di bombardamento Guarda Shizukina, ahhh, prendo i maiali Oh nooo Non mi sento bene Shizukina Nooo Ahahahah Thank you Enemy Chaser Enemy Chaser Enemy Chaser Vado avanti così, basta Vado avanti così, basta Ahahahah Adesso che con giochi maiali hai un bonus o sono picchi malus? Teoricamente dovresti far più danno in realtà da grasso Però è meno agile Però è meno agile Hai preso i sassi? Ehm, mi sento sì Eh i sassi no, sono malus e basta No, ancora il joystick e niente, ha saltato sulle punte Ahahahah Io odio i joystick PS4, non lo sopporto più Sto cazzo di cavo Non lo riesco a prendere Ah E' qua un casino adesso, ecco Per quello è un casino Nooo L'ha schiacciata L'ha schiacciata Shizukina Basta, muori Nooo Ho salvata Ma mamma, grazie Attenta qua, qua in centro, al centro, al centro Ancora fa il fumo, il fuoco, roba brutta lì Salta e butta le bombette Presto, presto No, no, salta, salta, così, così Sì, sì, sì Sì, sì, sì Canoni, canoni Cade giù, cade giù Da destra, da destra Da destra Ah Ah Nooo E vabbè Chiuso pure a me Vabbè, ha difficoltà massima il gioco E ricordiamoci questo Ma rispetto all'uno che sembrava facile anche in difficoltà Ma qua si contatta più Cazzo se c'è Allora arrivano le monettine Allora arrivano le monettine E poi parti, le prendi tutte così E me le rubate tutte Guarda quell'arma lì cerca di Vabbè, la prossima volta Ok È un'arma, è un'arma, è un'arma Aspetta che non riesco a sapere Andiamo, andiamo Tenta Tenta Nooo Ah, di lei Nooo Guarda, guarda, guarda Un trucchetto Guarda, guarda Aspetta, aspetta Santa, 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 santa Ti porto via Però direziona bene la mia La torretta adesso Che poi non ti puoi più muovere Ok Andiamo Ah Ah Vabbè, qua è meglio se scendi Perché qui è un casino Ecco perché è un casino Attenta Quelli così rossi Non si distruggono E di nuovo il joystick Aspetta Aspetta O Gas Lo sto bloccando qui Eh sì, è qui Attento Eh no, lì non potevo salvarti Era troppo stretto Niente Altri dieci missili E se la prendo, e se la prendiamo È morta, è morta, è morta Non credo di avercela mai fatta con l'aereo ancora integro Sono proprio io perché mi sono messo a mangiare anche il panino È bello per la spettacolarità però La difficoltà è indegna Adesso mangia il cibo, mangia il cibo Eh, buono ingraffato Il cibo, il cibo Maiani, maiani, presto, presto No C'erano bombe vaganti, roba Prendi il cibo, prendi, prendi, prendi Niente, ancora non è abbastanza Di più, di più Le angurie, le angurie Ecco, ecco Ti ha salvato il frame di invincibilità No È esplosa Attenta, giù, 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 giù Giù Eh, morivo comunque La quinta A, la quinta A Mi sembra rompendo i bullini e niente Però non l'ho mai visto Eh, niente Eh, le bullet di che? Non abbiamo A, D Vedi cosa fa l'A, D Spara le palline che poi vanno da sola Ah, ok Era quelle che prima saltavano Mh Deve stare, devi avere mille occhi qui Ah, è l'A, D Oh, l'A, D Occhio 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 È l'A, D no ha preso le sto ho il laser eccolo è lui guarda guarda il vecchietto guardalo guardalo ma che cosa andiamo andiamo vecchietto presto guarda guarda che la carica la carica si 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 indica anche i segreti robe che si possono distruggere ma ci sono gli alieni sono gli alieni il super laser super laser da cicciona guarda nooo beh è meglio che abbia preso me nooo ahhh aspetta ti aiuto c'è un po di gente qui attenta ahhh è furiosissima guardate basta tutto senta senta eccolo arriiiiiva eccolo non riesco a fare danno da qua ma mi ha dato la spinta al missile si ci puoi se con l'onda d'urto puoi anche saltare aiaa ok questa volta non ha potuto saltare lui niente abbiamo ancora il can oh ma ho il fuoco è salvato è salvato jizukina così l'ho ucciso ok sei bravo sei bravo sei bravo minchia ma clovis l'ha arrestato l'ha arrestato non si è neanche sentito l'hall è questiiiinooooo grazie clovis grazie questiiiino laser laser presto presto le bistecchine le bistecchine mi ho spaccamato oh c'è da io nooooo si capisce una sega aaaah frank di corrado grazie per il follo aaaaaaah ero nel fuoco incrociato dove è westino dov'è westino mi fa piacere frank ah c'è le armi davanti le bombe prendi le tu prendi le tu le prendo io ok le carotine le carotine via da lì via da lì troppa gente lì al lato ah prendo io il cannone ok 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 l'ho sfondato subito ok ok andiamo andiamo ok 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 costretti ad abbandonarlo ok 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 Mamma mia E' la super R Oddio è tornato Viene il dubbio ogni volta che vedi un carmato arrivare tu stai abbassata Paragli le bombe le bombe Spammalo spammalo No Maledetto carro Eccolo Westino eccolo E' lo sfamare le gate Allora è una scusa più che buona Westino West è million help Pesante Come stai Westino come va Adesso siamo senza Armi dobbiamo spammare Presto Ah le butto Però l'ultima non so come faremo a farla Ah ah Prenda io Mamma mia mi hai salvato Ah la bomba L'ho presa io No Shizukino Niente Che stronzi Che stronzi maledetti Guarda 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 Tutto cosa succede qui Tutto Guarda Tutto Cos'è quel simbolo sulla porta Chi sono quelli Ok Oh no Oh no Attento esplodono Ah Ahia No 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 C'è il super laser E come si fa Ah E' da girare Prendi prendi tu Prendi tu Ma esplodono solo quando ti toccano Eh diventano rossi rossi e poi dopo un po' se ti sono vicini esplodono Ok Eh provo Attenta Andiamo 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 Ma è cattiva papà Ma è cattivissimo Aiuto Vieni vieni qui Vieni qui Ci proteggiamo col fuoco Ma perché non ci ha messo così tanto a morire Quello non è giusto Un braccino solo adesso Coriamo e basta Arascia Via via Ah Arrivo Aspetta ti tiro giù l'altro Ok Prendi il fuoco presto Ok I cannoni sono le fiammate che puoi sganciare per terra Quindi usano uno appena sfondiamo qui Via Scaffiamo Scaffiamo No non hai più braccine Vai di cannoni vai Gli ho esploso il cararmato addosso Ah attenta La cannonata Ok Abbandona quella bominio Shizukina non ha più nulla Dove è stato uscirne Così Tenta Atenta Ok E basta Uh ce ne hanno dato un altro Ok Ok Eh niente Mi hanno già rotto un braccio Ok Ciro Faffanculo E vao Mi ha preso appena uscito Ah 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 Putta le bombe Shizukina Le bombe Noo Le bombe Le bombe Ah Ah Ma troppo stretto È troppo stretto Bastardo Muori E dove vado Lì Ah Falle scosse brutte Le bombe Le bombe Quasi morto Dai Non c'ho più spazio Che bossi illegali Cosa vai a parte del pelo di gatto Che mi fa impazzire Mi spiegate come si fa A far girare quella roba Non mi riesce mai Aspetta Slug L'abbiamo preso da Steam Noi Questino Siamo da Steam Con Parsec Per il secondo giocatore Oh L'ultimo livello Eh fi Eh niente Aiuto 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 Sta lagando Qualcuno uccida Quegli strozi Pezzi di merda State facendo raggare Tutto Ok Piano piano Non mi salti Ci zucchino Piano piano Attento Ok Adesso 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 Ok Attento il mortaio Ok Ah Ah la L'hai 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 Ma Ti son Sì Non si vede Un cazzo È laga Terribilmente Ah 5 frame Mi ha preso Ah Ah No Ho cambiato Il personaggio No Marco Guarda che arriva Guarda che arriva Shizucchino Guarda chi c'è Ah il nostro amico è così È tornato Eh no Eh no Vince lui Ah va E di nuovo Come on Boi Niente Ok No Ma sarà morto Questa volta Come on Boi E mangiava il panino Quella lì No Cazzo No No presi Presi Tenta il proiettilino Oh no C'è lei 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 No No che succede Guarda lì Guarda lì Sono lì dentro No 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 Grazie! Eh, lui! G-Man! No, lui è il boss finale del quattro, sai? Non so perché sia qui la loro, non so una sega io! Eccoli, eccoli! No, no, sono cattivi, eccidili! Fanno pipì! Ma che ha? Ah, no, è l'arma quello dello chat! Niente! Ha-ha, l'ho salvato io! Maledetta! Eh! Ma... Occhio, vabbina! Eh... È morto sulla mia! Ah beh, allora muore anche quello, sì! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Grazie! Rocket Launcher! Rocket Launcher! Aaaaaaah! Ah! Ah, troppo schifo! Oh, niente, mi hanno ucciso! No, non può che non morire! Trovi meglio con gli alienini! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ce l'ha effe, ce l'ha effe! Blame-chop! Oh no, gli hai dato fuoco! No! 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 Ah! Ci sono alleati con i soldati! Guarda che stronzi! E poi questi sono i marziani Poi nei altri giochi ci sono anche i venusiani Sì Tenta le cacche, le cacche Nooo I bianchi sono i più forti, vedi fanno questi tre spari blu velocissimi No, no, è lo shotgun che è one shot Troppi bianchi Niente, mi è arrivato addosso La cacca, la cacca 10 punti Il boss, il boss, presto, presto Adesso La citazione penso la coglierai poi alla fine di questa battaglia Guarda, è lui, è lui No, che succede? L'hanno tradito, guarda Ma cosa, diamine Dalle Lo hanno preso Mi hanno fatto un pozzino moltissimo Sono cattivi, sono cattivi No, adesso esce il laserone Via Via Ah, basta correre via urlando, va bene Mi riesce bene Di nuovo laserone Ah Nooo Hai fatto gli occhietti No, pensavo sparassi a me Ah, bombardamento Ferma, ferma, ferma Ah, sta, sta, sta Ah, ora si incazza Ora è più rapido E' arrabbiatissimo Vuole la mia morte Guarda lo sfondo Guarda lo sfondo Guarda, si stanno uccidendo dietro Aia L'ha si distrae E' il laserone, è il laserone E' morto, è morto E' finita Shizukina Gigi Si va a casa Guarda lo sfondo Shizukina Tanto muoio mille volte Oh no, è la nave madre Ah Cittazione per casa Un film di Will Smith Esatto Sono tornato E' proprio quella Ora sono i nostri amici Guarda Ma chi è i nostri amici? Loro, loro Niente, li stavo sparando da mezz'ora Lo so Lo fanno tutti Quell'errore all'inizio E io di solito Li uso come scudo Per sopravvivere ai laser Di sti stronzi No, metti dietro di loro Così muoiono loro Vedi? Aia Sì, ma hanno messo troppa vita Quei cazzo di alieni Li non muoiono mai Guarda cosa ci hanno portato No, voglio distruggere la terra Guarda Shizukina Ma chi arriva adesso Shizukina? E' lui E' lui Lo fa Aia E' l'impianto E l'impianto Eccolo! Ma mi sono simpatico ormai! Ma avevi anche Goku? Ma avevi anche Goku? Niente, infatti è lì dietro i suoi dati, guardalo! Per una volta quanto ho fatto il complice più alto del tuo? Eh sì, prendendo il calmato e il vecchio sul finale! No, non spoilerà, Reru! Allora, avresti speso Shizuki? Mamma mia, 30 volte! 30 continua erano... Ehm... Allora... 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28... 7,50€ Ma il Roma dice il doppio, quindi... No, 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 dai! Figa, dove cazzo andava? Costava un euro a gettone dove andavi tu il Roma! Bello, bello, mi piace! Però è strulsissimo rispetto al primo, eh! Dai! Guarda il... No, aspettiamo, va che tanto... Ma fio è maschio o è una femminuccia? Femmina, è femmina! E lei sta con quello rosso? Ah, quello che ho switchato prima! Marco, ma che... Mi è piaciuto! Faccio questo sacco di cose, di allievi, le mummie... E... Il 3 è anche più bello! Dai, io farei anche il 3, su! Ah, tardino, per me! Tardino... Va bene! E il tuo bannino ha detto se abbiamo finito di fare baccano! Abbiamo salvato il mondo dagli alieni, bannina! Che poi il gioco inizia che siamo boh, in Islam! Finisce che distruggiamo la nave madre! Non siamo finiti, tipo, anche in Siberia, al Polo Nord, robe strane! Eravamo anche in una città cinese, ma poi boh, c'erano mutanti in un laboratorio! Ma chissà se c'ha tutto un significato, quello che vediamo, se è completamente a caso! Non lo so, però è già bello così, quindi... Eh, pensa che il 3 a livello di spettacolarità è ancora più bello! Però è anche più stronzo! È ancora più stronzo di questo! Prossima volta? Sì! Quello degli zombie con lo spruzzo rosso, niente! Spoilerano! Ah, sono terribili oggi! Hanno spoilerato tutto, sì! Ah mio! Sì! Va bene! Mi chicchi! La chicco, la chicco! Pa! L'ho calciata Fate ca Boh belloni Io vi saluto che Comunque domani lavoro Anche se ho tutta la mattina per dormire Lavoro il pomeraggio Quindi lavoro il pomeraggio Ragazzi inizio alle due e mezza Finisco alle nove e mezza Quindi sarò a casa per le dieci e mezza Undici Dieci e mezza si Se ho un altro turno pomeridiano Anche il giorno dopo Alle dieci e mezza forse si avvia una live Ragazzi Se ho un turno mattutino E no Quindi non lo fa Non lo fa Non lo fa un cazzo Io so soltanto il turno di domani Non so quello di dopodomani Quello di dopodomani me lo dicono domani E via dicendo Sul lettone presto sul lettone Sì Di belloni Io vi do la sbuona snotches La prossima volta dai Che ho una live così lunga Che comunque anche se non è La nostra solita live di sette ore Comunque quattro ore e quarantuno Direi che Sono un buon orario Magari facciamo Iniziamo un tripla Vediamo Se capita di nuovo una live pomeridiana Faremo Non meds Non lo Ad soul secrets Oppure dobbiamo finire Tomb Raider 3 Oppure la custom map Abbiamo tutta quella roba di Tomb Raider Per le live pomeridiane Quindi vi do la sbuona snotches E vi do appuntamento a Boh Vi ricordo Che Le live D'estate Sono randomiche Quindi se volete sapere Quando andrò in line Ve lo posso scrivere solo qui E infatti oggi Stamattina Appena sveglio Mi è arrivato il turno per domani Ho visto che Attaccavo agli due e mezza E quindi ho scritto subito Stasera faccio live Perché sapevo che avrei fatto live Ma ve lo posso dire soltanto All'ultimo momento ragazzi Cioè 10 ore prima Al massimo Vi posso dire se faccio una live Non posso Prima di così Ma l'ho detto 85.000 volte Quindi basta Dai Insomma Se volete entrare nel gruppo degli annunci Entrate Se no fa lo stesso Vi vorrò bene lo stesso Buonanotte a tutti Belloni pipì Notte Ciao Ciao Grazie mille